La vicenda di Veneto Banca e Popolare di Vicenza, i due istituti liquidati nel 2017 in seguito al riconosciuto stato di dissesto, trascina con sé ancora oggi diverse implicazioni che interessano gli azionisti. All'epoca il pronto intervento di Intesa San Paolo consentì alle due banche di continuare a operare anche dopo la crisi, evitando ai correntisti in debito l'esborso di ingenti somme. Un'azione provvidenziale che però non è bastata a tranquillizzare del tutto clienti e obbligazionisti. A seguito di varie indagini e approfondimenti si è comunque scoperto che ci sono state delle violazioni al TUF, che è il testo unico finanziario, e dei problemi di tutela dei consumatori. In questo senso è stato creato un fondo in inizio risparmiatori che mira a tutelare coloro che, entro certi parametri di reddito, avevano delle azioni o delle obbligazioni delle due banche ed è stato messo a disposizione un fondo a livello nazionale pari a 500 milioni di euro l'anno per tre anni. L'azionista o l'obbligazionista che avesse avuto delle azioni o delle obbligazioni di questa banca, che avevano un valore pari a zero, ha potuto rivolgersi a questo fondo inizio risparmiatori e molto aiuto gli è stato dato da parte delle nostre associazioni di consumatori. A Belluno Treviso abbiamo gestito 3.700 di queste pratiche, cioè per ciascuna persona, che è una storia, sono state prodotte tantissime carte, grazie a questo all'intervento di 15 volontari che ci hanno supportato. Adesso siamo in attesa di capire, con le interlocuzioni di Consap, se e come sia possibile anticipare dei fondi, visto che comunque i fondi sono al massimo il 40% di quello che era l'importo iniziale, abbiamo anche chiesto, e siamo in attesa di risposta, un prolungamento dei termini della domanda. Perché? I termini scadevano il 18 giugno, molte persone non siamo riusciti a contattarle anche perché c'è stato un lockdown che ci ha impedito l'operatività nei fatti per quattro mesi.